Per quanto riguarda l'arbitraggio non parlo mai degli arbitri, dispiace perché mi hanno detto che il gol di Morata era un metro e mezzo buono e quindi era la palla del 3-0. E' la prima di parlare del 2-0 e poi dopo abbiamo avuto altre occasioni. Quando giochi in Champions è così, le partite non finiscono mai, sono lunghe soprattutto quando giochi a Monaco. Fare due gol a Monaco e vincere 2-0 e avere 3-4 volte la palla del 3-0 non è facile. Non ci devono essere dei rimpianti ma soprattutto la consapevolezza che la squadra ha acquisito una mentalità europea importante. Bisogna continuare a cercare di vincere il campionato, poi abbiamo la Coppa Italia e l'anno prossimo a fare meglio in Champions. Credo che un anno siamo arrivati in finale, quest'anno abbiamo giocato un'ottavo di finale che è come se fosse una semifinale, dimostrandosi all'altezza del Bayern. Abbiamo fatto una partita migliore dell'andata, per 60-65 minuti abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo avuto tante occasioni per fare il terzo gol, così non è stato. Però a volte c'è anche un po' di casualità, mi dispiace molto perché ragazzi se ne hanno fatto una bella partita. Poi il calcio è bestiale perché a un minuto dalla fine della partita prendi su un cross, su una palla. L'unica volta che abbiamo sbagliato in 90 minuti è la gestione della palla prima che Vidal la prende e la apra, per coma. Ma la palla prima che era stata gestita male è andata in fallo laterale. Quella bisognava fare meglio perché a quel punto lì loro non avevano più la forza di venireci a fare gol.